Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. Una piazza Santo Ronzo di Visa ha accolto il vice premier Matteo Salvini in tour elettorale in Puglia. Il ministro dell'interno ha parlato ai suoi sostenitori, ma è stato duramente contestato da alcune centinaia di manifestanti, con fischi e cori. Salvini è stato a Lecce anche per firmare un nuovo patto per la sicurezza urbana. Il ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio è stato nel Salento in occasione di un incontro di Coldiretti, dedicato al problema Xilella. Prima di raggiungere Lecce, ha sorvolato in elicottero gli oliveti devastati dal batterio. Chiedo scusa alla Puglia, ha detto. In questi anni lo Stato è stato assente. È uscito fuoristrada mentre percorreva un rettilineo nelle campagne di Veglie. È morto così un meccanico di Erchie, Salvatore De Puntzio Morleo. L'incidente è avvenuto nella notte e i soccorsi sono intervenuti dopo molte ore all'alba del giorno dopo. Anche quest'anno buone notizie per la Puglia, che si conferma tra le mete più ambite per le vacanze. Se la Sardegna ha i primi due posti nella top 10 delle mete più cercate dagli utenti della piattaforma Subito.it, al terzo posto c'è la Salentina Torre Lapillo. I turisti cercano per lo più case indipendenti e i più esigenti ville con giardino e piscina. La Puglia e il Salento si confermano set privilegiato per il cinema italiano e non solo. Nei prossimi mesi estivi sono in programma le riprese di film e serie tv. Anche Aldo Giovanni e Giacomo tornano a girare nel Salento a 22 anni di distanza dal film Tre uomini e una gamba. Le riprese del nuovo film dovrebbero partire all'inizio dell'estate. Nuovo successo per Fefe De Giorgi, celebre pallavolista di Squinzano, e oggi allenatore della Lube Civitanova. Dopo lo scudetto, la sua squadra è diventata la migliore d'Europa, conquistando la Champions League di pallavolo contro lo Zenit Kazan. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.